La Lega Pro ha voluto tanto questa iniziativa, come vi è venuto in mente questo campionato così speciale, questo torneo? Perché noi siamo la Lega dei Comuni d'Italia, della storia d'Italia, territorio, socialità, inclusione, solidarietà, come potremmo non accogliere la passione e la gioia di questi ragazzi? Indossare questa maglia per te, della tua squadra del cuore, cosa ha rappresentato fare un torneo per e pro? Che rappresenta tante cose, quindi ringrazio anche il Presidente Pasini che è un grande onore salutarlo e onorarlo di questo grande giorno speciale per tutti noi della Farao Pissarò. La squadra di quarta categoria nel momento in cui abbiamo avuto questa opportunità l'abbiamo colta immediatamente, quindi due mesi fa abbiamo presentato con la presenza del responsabile della federazione questa nostra squadra che si integra con le squadre già esistenti, si allenano tre volte alla settimana e alla fine settimana fanno la partita e quindi loro toccano con mano quella che è la realtà del campo e trasmettono valori che i giocatori veri non hanno. In che squadra giocate? Nel Livorno Nel Livorno? Sì, sì, finalmente giochiamo per la squadra della nostra città ed è un'emozione. Con chi vi scontrerete? So che c'è un derby nell'aria. Sì, c'è il Livorno Fissa. Quindi un po' di agonismo. No, no, vabbè, l'importante è giocare tutti insieme e stare tutti in compagnia. È bello divertirci. Facciamo di ravaglietta. Che è per il nostro primo tifoso? Per il nostro primo tifoso, Papa Francesco.